Rissa sabato sera in via Ettore Romagnoli in crocio con Vianino Martoglio, a scatenare la furibonda Rissa la gelosia tra due contententi di una donna, l'ex marito e l'attuale compagno. Sul posto, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti i poliziotti della volante, che hanno così trovato un uomo di 43 anni, LL e le sue iniziali, con le mani e il volto sporchi di sanque, così come la maglietta che lo stesso indossava. L'uomo riferiva agli agenti di essere stato aggredito dall'ex marito dell'attuale compagna e da un altro individuo a lui sconosciuto, e di essersi così difeso con un coltello da cucina che teneva in macchina. Dopo gli accertamenti immediati, i poliziotti riuscivano così ad identificare l'ex marito della donna contesa, MC di 36 anni, che presentava, a seguito della Rissa, ferite da taglio sul braccio e sulla mano destra, nonché l'altro aggressore coinvolto nella zuffa, AR di 28 anni, che nel frattempo si era allontanato. L'uomo 43enne ferito, compagno della donna contesa, si recava dunque all'ospedale Sant'Elia per le medicazioni alle ferite riportate, giudicate guaribili dai medici entro sette giorni. Tutti e tre gli uomini sono stati denunciati per il reato di Rissa, mentre i due coltelli rinvenuti nella macchina del compagno della donna sono stati sequestrati.